Buonasera, buonasera anche dall'estate, tra le quali anche il consigliere comunale di Busto Arsizio, Paolo Efrem. Tutto questo nel corso di un'operazione della Guardia di Finanza e dei Carabinieri Forestali di Milano. L'inchiesta su infiltrazione dell'andrangheta nel settore dei rifiuti. Il consigliere comunale Efrem avrebbe emesso delle fatture false per oltre 100.000 euro. Ci racconta tutto Alberto Carreras. I GICO della Guardia di Finanza di Milano hanno arrestato oggi 5 persone, tra cui il consigliere comunale di Busto Arsizio, Paolo Efrem, nell'ambito di un'inchiesta del PM di Milano, Silvia Bonardi, su infiltrazioni dell'andrangheta nel settore dei rifiuti. Il consigliere è finito in carcere per emissione di false fatture con l'aggravante dell'agevolazione delle cosche. L'ordinanza del GIP, Sara Cipolla, riguarda anche il capo del clan di Legnano, Lonate Pozzolo, Vincenzo Rispoli. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, con al centro i reati di estorsione e emissione di fatture false, con l'aggravante del metodo mafioso, è stata eseguita anche dal NIPAF dei Carabinieri Forestali di Milano. La nuova tranche di indagine ha accertato che la società SMR Ecologia, che operava prima nel settore dei trasporti e poi in quello dei rifiuti, e che gestiva un impianto di trattamento alla Guzza, nel Comasco, ha subito per lungo tempo l'infiltrazione da parte di soggetti legati alla locale di Legnano, Lonate Pozzolo, tra Milano e il Baresotto. L'imprenditore della SMR ha scelto poi di collaborare. Paolo Efrem, che nel 2018 è entrato come primo consigliere di colore nel Consiglio Comunale di Bustarsizio, e che oggi è stato arrestato, avrebbe emesso false fatture per 100.000 euro, attraverso la sua società Efrem Trade. I fondi neri, così creati stando alle indagini, sarebbero serviti per pagare spese di viaggio e di soggiorno al nord dei familiari di Silvio Farao, presunto boss dell'Andrangheta, detenuto al 41 bis. Sempre secondo l'inchiesta, Efrem, eletto con una lista civica di centrodestra, avrebbe fatto anche in pratica da autista prestanome di Daniele Frustillo. Anche lui è arrestato oggi con l'aggravante mafiosa e che si sarebbe occupato delle false fatture emesse dalla società del consigliere. E si è svolto in procura a Milano oggi l'interrogatorio di Paolo Bellini, il funzionario poi sospeso dell'ATM, finito in carcere il 23 giugno perché accusato di essere il perno di un sistema di mazzette e appalti truccati per i lavori di manutenzione e innovazione delle linee della metropolitana. Bellini, già nell'interrogatorio davanti al GIP, aveva reso ammissioni sul sistema di gare pilotate, tra cui una da oltre 100 milioni di euro e mazzette incassate. Aveva anche fatto capire che avrebbe voluto parlare anche con gli inquirenti per descrivere quello che nel giudice, nell'ordinanza, ha chiamato proprio il metodo Bellini. Mentre è legato ad una gang di latino sul 23enne del Salvador che è stato accoltellato ieri sera a Milano in via Bassini, è stato ferito da un gruppo di 7-8 persone che probabilmente sono sudamericane. Vediamo. Risulta legato a una gang di latinos, il 23enne di El Salvador, che ieri sera è stato accoltellato a bordo di un autobus a Milano in via Bassini. Secondo quanto riferito da fonti investigative, l'aggressione non è stata casuale. Il giovane è stato seguito e ferito da un gruppo di 7-8 persone che sarebbero a loro volta sudamericane. Questo elemento andrebbe ad avvalorare l'ipotesi di una spedizione punitiva organizzata da un gruppo rivale. Resta da capire il movente. Il 23enne ha alcuni precedenti, ma al momento non risulterebbe coinvolto in vicende di Pandillas. Ai primi soccorritori ha detto di non conoscere i suoi aggressori, ma gli investigatori sospettano che sappia molto di più. Nel corso del raid è stato colpito da diversi fendenti tra addome e schiena, ma non è giudicato in pericolo di vita. Gli investigatori della squadra mobile di Milano, diretti da Marco Calì, hanno raccolto i filmati delle telecamere a bordo dell'autobus e proprio da lì potrebbero arrivare in breve utili elementi per l'individuazione dei responsabili. Al momento si sa che il 23enne è salito sul mezzo alla fermata Lambrate assieme a due conoscenti e alla fermata successiva è arrivato il gruppo che lo ha aggredito. A sferrare le coltellate sarebbe stato solo uno. Subito dopo, aggressori e complici sono fuggiti, disperdendosi in direzioni diverse, mentre il ferito è stato soccorso dai presenti in attesa dell'ambulanza. E sulla problematica della sicurezza sui mezzi pubblici e quindi sul come prevenire episodi di questo genere è intervenuto l'assessore alla sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo Decorato. Sentiamolo. Ormai sulle linee ATM di notte, di sera e di notte, siamo arrivati alle coltellate e risse tra gang. Come avviene nel Sud America, come avviene nel Triango di Medellin, siamo in una situazione drammatica. Un altro weekend di violenza nelle strade di Milano, abbiamo avuto uno a coltellato grave, un altro è stato scaravendato sui navigli nel naviglio, un altro venditore di fiori, quindi un'altra persona, e insomma ci sono stati fatti di gravità inaudita. Ora, sui mezzi pubblici continuo a dire e a chiedere che il Sindaco di Milano provveda a utilizzare la Polizia Locale. La Polizia Locale sono 3.200 vigili. Basterebbe adeguare il nucleo tutela trasporto pubblico, che in questo momento ha una decina al massimo di vigili, portandolo a 50. In tre turni potrebbe essere il modo per affrontare e risolvere la questione, sempre che il Sindaco di Milano ci senta. Cambio argomento, oggi ha riaperto l'aeroporto di Linate, ma i primi passeggeri di linea si vedranno solo mercoledì. Per ora gli unici a volare infatti sono i passeggeri dei jet privati. Ma da oggi serrande aperte invece per bar e negozi e tornano a operare anche gli addetti al check-in e al movimento bagagli, forze dell'ordine, vigilanti, personale di terra e impiegati della SEA. I voli da Linate, inizialmente messi in vendita dalle compagnie per questi due giorni, sono stati trasferiti a Malpensa. Poi da mercoledì la graduale ripresa con 4 decolli e 4 atterraggio al giorno di Luffatansa, Iberia e Ermalta e solo dal 24 luglio all'Italia, attiva solo per i collegamenti con la Sardegna. Mentre le rotte nazionali e internazionali, attualmente e solamente a Malpensa, torneranno a Linate solo a partire dal 1 di agosto. E sull'apertura, un po' così, a mezzo servizio dell'aeroporto di Linate, è intervenuto l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza. Sentiamolo. Oggi, dopo 113 giorni di stop, ha riaperto l'aeroporto di Linate. Ma si tratta di un'apertura fantasma, visto che i primi voli torneranno operativi solo mercoledì. Ancora una volta la confusione del governo giallorosso rischia di costare un fiume di denaro pubblico. Lo scalo avrebbe dovuto ricominciare a funzionare solo a mezzanotte di domani. Ma, sorpresa, qualche giorno fa il ministro dei trasporti De Micheli ha deciso di anticipare a oggi, non permettendo una adeguata organizzazione. Il risultato è che Linate e tutte le attività connesse restano aperte 48 ore, senza aerei e senza passeggeri, per colpa di un governo sempre più confuso e incapace di gestire l'emergenza. E senza una parola da parte del sindaco Sala, che sembra accettare questa ennesima penalizzazione ai danni di Milano. C'è stata un'iniziativa nel municipio 8, voluta dal presidente Simone Zambelli e dalla vicepresidente Giulia Pelucchi. E l'iniziativa è questa, cioè una scritta, una scritta in piazza Gramsci, con una scritta che è Human Black Migrant Lives Matter. Questa scritta ha scatenato prima la polemica politica e poi gli insulti sui social contro la vicepresidente assessore alla cultura del municipio Giulia Pelucchi. La scritta è stata realizzata su proposta delle sardine ed è stata oggetto della polemica, inizialmente da parte del capogruppo della Lega in Consiglio Comunale e anche deputato in Parlamento, Alessandro Morelli, che in un posto ieri commentava della gente sta imbrattando piazza Gramsci a Milano con questa scritta Migrants Lives Matter. Pensano come Cosa Nostra che le città siano loro, invece del senso civico dovrebbe insegnare che certe cose non si fanno. E chiaramente agli italiani sull'astrico ci penseranno gli altri. Cosa ne dici, sindaco Beppesala? Questo è il posto di Alessandro Morelli. Sotto questo posto sono comparsi poi degli insulti, appunto, sessisti, proprio perché l'iniziativa è stata presa su indicazione della sardine da una donna, che è la vicepresidente appunto del municipio 8, Giulia Pelucchi. E appunto su questa questione hanno risposto. Prima il presidente del municipio, Simone Zambelli, e poi la stessa vicepresidente, Giulia Pelucchi. Sentiamoli. Come municipio 8 abbiamo scelto di fare questa scritta su piazza Gramsci, antirazzista per una Milano solidale che riscopre i suoi valori. Piena solidarietà alla mia vicepresidente, Giulia Pelucchi, che è stata oggetto di critiche sessiste e di insulti pesantissimi, di cui spero si procederà presto per vie legali. Questo mostra la differenza tra chi è per la città, chi lavora per il bene comune e chi sa solo insultare in modo violento e barbaro. La scritta che abbiamo deciso di sostenere insieme a 6.000 sardine, rispondendo proprio a un loro appello, ha scatenato contro di me, che mi sono permessa di difenderla in quanto promotrice di questa iniziativa, una serie di insulti, chiaramente sessisti, perché sono una donna. E questo non fa altro che dimostrare il degrado culturale verso cui la politica si sta dirigendo. Mi aspetto delle parole di distanza, di condanna da parte dell'onorevole Morelli, sotto il cui post sono partiti tutti questi insulti. E al momento ci sono già delle prese di distanza da questi post, ad esempio il consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico, che si dissocia e esprime la sua solidarietà a Giulia Peluchi, idem Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, che però dice anche che il comune, il municipio, non dovrebbe spendere i soldi per delle scelte di tipo politico, ma invece per scelte che sono per il bene di tutta la città. Restiamo a parlare della città, perché adesso andiamo sempre nel municipio 8, in via Ludovico di Breme, perché è stato effettuato un murale di oltre 1300 metri quadrati, cioè 17 per 70 metri, per raccontare l'Italia nel periodo dell'emergenza sanitaria del Covid. Si tratta del nuovo progetto dell'artista internazionale SMOE, con la collaborazione del Comitato Petrarca, che è l'associazione milanese, che negli ultimi anni si è incaricata di valorizzare tutta l'aria intorno a via Ludovico di Breme, vicino nei pressi di Viale Certosa. Inattitolato Necesse, dal latino necessario, indispensabile, vitale, nel murale sono raffigurati, come avete visto, un'infermiera che si lega la mascherina, un rider, un bimbo chiuso in casa che ritrae con fantasia la città, i braccianti, gli anziani, un senza tetto, i lavoratori del supermercato, tutte persone che non si sono mai fermate. Sarà dipinto a mano, è stato dipinto a mano, scusate, con vernice spray e pennarelli ed appunto sarà affisso in via Ludovico di Breme. Il progetto è interamente autofinanziato ed è partita anche una raccolta fondi. L'obiettivo è raggiungere 26 mila euro necessari appunto per realizzarlo. La cronaca, parliamo dell'attentato al bus, per cui è stato finito in carcere Ossoeniusi, il 47enne, lo ricordiamo, che il 20 marzo dell'anno scorso aveva dirottato e poi incendiato un pullman con a bordo una scolaresca di 50 ragazzini, due insegnanti e una bidele, nei cui confronti la procura aveva chiesto 24 anni di carcere per sequestro aggravato dalla finalità di terrorismo, strage, incendio, lesioni e resistenza. Bene, l'avvocato oggi ha detto che in realtà l'imputato non ha piccato il fuoco, non aveva alcuna volontà omicida né incendiaria. Questo è appunto l'inizio dell'intervento di Giovanni Garbagnati, che è il difensore del 47enne. Ricordiamo che sì, segue l'udienza nell'aula bunker da dietro le sbarre. Ha una mascherina nera sul volto con la scritta L'Africa non morirà mai e la cartina del continente ricamate. L'uomo renderà dichiarazione all'udienza di dopodomani, che è anche lo stesso giorno in cui è stata attesa, è attesa la sentenza. Il difensore non ha negato che quella di sì è stata un'azione spropositata, però appunto ritiene l'avvocato, ribadisce l'avvocato, che non aveva alcuna volontà né omicida né incendiaria. Ancora cronaca, furti, rapine, estorsioni e detenzioni di armi. Dieci persone sono state arrestate dai carabinieri di Corsico. Il gruppo era attivo nel quartiere Lavagna. Vediamo. Sono dieci le persone destinatarie di una misura cautelare eseguita questa mattina al termine dell'operazione dei carabinieri di Corsico. Quattro erano già in carcere in Italia, una quinta persona invece era in carcere in Spagna. Il gruppo è ritenuto responsabile a vario titolo dei reati di rapina aggravata, detenzione e porto di armi clandestine, tentate estorsione, ricettazione, lesioni aggravate e furto. In particolare, secondo gli inquirenti, il sodalizio criminale, composto da soggetti italiani attivi nel quartiere Lavagna di Corsico, nel sud ovest milanese, era dedito alla commissione di rapine a danno di istituti di credito, centri scommesse, compro oro, oltre che estorsioni ai danni di commercianti. Quattro membri del gruppo si trovavano già detenuti per l'arresto in fragranza, avvenuto dopo una rapina a una sala slot di magenta nell'ottobre 2019 che aveva fruttato 20.000 euro di bottino. Un quinto venne arrestato in Spagna. A capo del gruppo c'era un 57enne criminale di lungo corso che è scarcerato a febbraio 2019. Dopo aver passato quasi 20 anni in carcere, si è subito impegnato per rimettere insieme la banda e commettere rapine. Almeno sei quelle portate a termine in pochi mesi, più altre due tentate e anche un episodio di tentata e estorsione tra Milano, Cesano Boscone, Vigevano e Magenta. Obiettivo della banda erano prevalentemente le sale slot e i negozi compro oro. Sarà presto interrogato da IPM di Milano Filippo Bongiovanni, l'ormai ex DG di Aria, la centrale acquisti della regione Lombardia. Indagato nell'inchiesta della fornitura da mezzo milione di euro di camici e altro materiale, poi in parte trasformata in donazione da parte di Dama, società di cui la moglie del governatore Fontana detiene una quota, e di cui è il titolare il cognato Andrea Dini, anche lui indagato per turbativa libertà nel procedimento di scelta del contraente. E vediamo a questo punto i dati della regione Lombardia per quanto riguarda il numero dei positivi che sono stati appunto segnalati. Eccoli qua, vediamo. Abbiamo fatto, oggi sono stati fatti 6.482 tamponi, i positivi sono 94, di cui 22 debolmente positivi e 27 a seguito di test sierologico. Milano Città Metropolitana segna 15 positivi, di cui 6 a Milano Città. Continua, scusate, a far riflettere Bergamo, perché vedete che il numero è sempre abbastanza alto, si tratta di 43 positivi, mentre 13 a Brescia, 4 Como, 4 Cremona, 1 Lecco, 3 Mantova, 2 Monza e Brianza, 2 Pavia e anche Sondrio, 0, scusate, e Varese una persona. Quindi dati assolutamente in linea con quelli dei giorni, di questi giorni, non c'è nessun grosso rialzo, però appunto Bergamo continua a far riflettere. E a proposito del Covid, anzi delle conseguenze del Covid, c'è un crollo delle vendite a Milano, pensate a luglio abbiamo l'80% e meno di vendite. La denuncia arriva dai negozianti e che si lamentano anche perché l'inizio dei saldi è stato posticipato al primo di agosto. Vediamo. E' sempre più crisi per il settore del commercio, il coronavirus, la chiusura di tutte le attività prima e poi le difficoltà economiche per molti cittadini, la decisione di spostare l'inizio dei saldi dal primo sabato di luglio al primo agosto e infine la fuga di molti verso il mare o la montagna. Tutte situazioni penalizzanti che a Milano hanno fatto crollare le vendite dell'80%. I negozianti hanno tentato di far precedere i saldi con le cosiddette promozioni per attirare clientela, ma fino a questo momento le cose sono andate male. Senza la parola saldi, almeno il 30% degli acquisti si ferma, ha detto Gabriel Mengagi, presidente dei commercianti di Concommercio Milano. In Sicilia e Calabria i saldi sono iniziati regolarmente, come tutti gli anni. In Lombardia e nelle altre regioni invece è stato deciso di partire il primo agosto, anche se è stato abolito il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti i saldi. Morale comunque adesso è tutto fermo, anche chi si trova in città attende. La maggior parte dei negozi è vuoto con pochissimi clienti. Secondo Federmoda il 52% delle aziende del settore si era espressa a favore del rinvio dei saldi. C'era la speranza che durante tutto luglio i commercianti potessero vendere a prezzo pieno, recuperando in parte quanto non venduto nel periodo di lockdown. Secondo Mengagi è stato un errore. Dopo lo stop di tutte le attività era evidente che la gente, tra mille difficoltà, non avrebbe acquistato a prezzo pieno, attendendo un periodo migliore di maggiore convenienza. Morale a giugno meno 50% di incassi, adesso si è giunti a meno 80%. Voltiamo decisamente pagine. È stato presentato questa mattina presso la sede della Fondazione Ambrosia Neum il trentesimo rapporto sulla città Milano 2020. Al cuore della ricerca, dal titolo allusivo, la salute, il pane e le rose, il ruolo delle donne in una grande metropoli definita amica delle donne, ma dove ancora c'è tanto da fare per una vera parità di genere. Sentiamo Anna Maria Braccini. Un rapporto sulla città Milano 2020 diverso da tutti gli altri. E non solo perché è la trentesima edizione di questo reference book curato dalla Fondazione Culturale Ambrosia Neum e presentato presso la sua sede storica di Milano, ma anche perché la pandemia, anche in questo caso, ha cambiato tante cose. Lo abbiamo fatto prendendo spunto da una richiesta esplicita che l'arcivescovo mi aveva fatto più di un anno fa e cioè che il rapporto si occupasse delle donne. Una ricerca comunque voluta tenacemente, dal titolo significativo e allusivo, la salute, il pane e le rose. In una città definita dalla curatrice Rosangela Ludigiani, woman friendly, amica delle donne, anche se molto resta ancora da fare. Ma è interessante il dato del 70% del tasso di occupazione in città, anche in ruoli di prestigio. Questo è un dato concreto da cui partire e a cui prestare attenzione nei prossimi mesi, perché la crisi che stiamo vivendo diventerà, ed è già in parte, anche crisi occupazionale, crisi sociale. A intervenire la senatrice a vita Elena Cattaneo e Antonio Calabro, direttore di Fondazione Pirelli e vicepresidente di Asso Lombarda. Tante, pur nel distanziamento, le personalità intervenute alla presentazione, a cui non ha voluto mancare nemmeno l'arcivescovo di Milano. Io apprezzo in modo particolare che sia stato portato a buon fine un progetto per aiutarci, almeno io sento il bisogno di questo aiuto a contrastare quella tendenza della pandemia ad essere una specie di mostro onnivoro. Era l'ultima notizia, mi fermo qua dopo la sigla. Come al solito ci sono le previsioni del tempo, poi a seguire c'è il nostro telegiornale sportivo e poi in prima serata seguiamo ovviamente il turno di campionato, il posticipo di campionato tra Inter e Torino. Arrivederci. Grazie.